So che ci hai pensato su. Sai quant'è la distanza? Sono 21 miglia nautiche. Le correnti cambiano direzione ogni paio d'ore. Acqua gelide. La prova sportiva più dura che ci sia. Pensi che dovrei tentare? Che potrei farcela? Attraverserò a nuoto la manica, ho deciso. Che stai dicendo? Che attraverserò a nuoto la manica. No, io non sono... Io ho già deciso. Mi passeresti il pane? Una donna non andrà oltre il settimo miglio. Penso che morirebbe in quelle acque. La maggior parte degli uomini ritiene che siamo troppo deboli per competere. E se invece ce la facessi? Avrebbero un gran bel problema. La cosa che ami di più al mondo è ciò che mi terrorizza di più. Non sarò presente se ti succederà qualcosa. Ti fanno contro di noi, Trudy. Vogliono che vinca l'acqua. Sono arrivata fin qui. Visitiamo l'Inghilterra. Non si torna indietro. Non si torna indietro. Andiamo, ragazza. Batti quei piedi! Mi faccio una promessa. Che nessuno mi tiri fuori dall'acqua. Qualunque cosa accada. Quasi sei miglia! Sta rallentando! Non vogliono che siamo eroini. Non vogliono che siamo un bel niente. Meduse Rosse! Ma che fa? Ci passa in mezzo. Non sei obbligata a farlo. Non lo so. È una bella giornata per nuotare. È una bella giornata per nuotare. Grazie a tutti